buongiorno a tutti sono qui con dottor michele nicolai che affronteremo alcuni aspetti connessi al programma fse della regione siciliana 21 27 sono appunto elementi chiave che possono essere utili e accompagnare beneficiari nell'attuazione degli interventi allora i regolamenti sempre il quadro generale a cui faremo riferimento regolamento 1060 del 2021 che definisce punto regolamento generale rispetto a tutti i fondi e regolamento 1057 del 2021 relativo al fondo sociale europeo plus della programmazione 21 27 allora perché è fondamentale comprendere e conoscere bene i programmi perché ovviamente il programma attraverso cui i fondi europea attuano delle politiche e vanno a finanziare dei singoli progetti operazioni e ciascuna operazione deve essere coerente e diciamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici dei programmi e tutto quello che ha previsto nel programma stesso è fondamentale perché il programma è scritto in partenariato con la commissione europea ed è adottato con decisione della commissione stessa e quindi è lo strumento di programmazione attuativa che in qualche modo definisce il contesto di riferimento l'ambito di applicazione di quelle scelte e operare nell'ambito dell'attuazione del fondo europeo sociale plus della programmazione 21 27 in questo caso della programma del programma e si è della regione siciliana come l'architettura del programma questo si applica a tutto ovviamente un programma articolato in azioni indicatori i principali destinatari previsti poi ci sono le azioni trasversali i territori eventuali azioni inter regionali e transnazionali strumenti finanziari o applicabili tipologie di intervento poi l'assistenza tecnica il piano di finanziamento l'eventuale attività partenariale che è stata definita nell'ambito della costruzione del programma le condizioni abilitanti che costruiscono la novità rispetto alla programmazione 20 27 rispetto alla programmazione quattro decimenti che avremo modo di approfondire elementi connessi alla comunicazione visibilità le autorità del programma e eventuali che vengono definite operazioni di importanza strategica quindi questa è l'architettura di dei programmi del 21 27 quali sono gli elementi essenziali come vedete dice c'è un format c'è un template e questo template si applica a tutti i programmi dell'unione europea quindi viene definita la strategia del programma le priorità i famosi assi priorità che adesso vengono definiti priorità quindi le priorità vengono ripetute in funzione del numero delle priorità di ciascun programma stesso e con il titolo della priorità gli obiettivi specifici e che devono essere coerenti con quelli previsti dal regolamento specifico sull'fse 10 57 21 21 l'intervento dei fondi quindi questo è diciamo il quadro logico del programma quindi le azioni che tipo di azioni sono previste nel programma gli indicatori quindi a livello di ciascuna priorità ciascun obiettivo specifico vengono definiti 2 7 gli indicatori alla tabella 2 vengono definiti gli indicatori di output alla tabella 3 quindi di ciascuna priorità ciascun obiettivo specifico vengono indicati degli indicatori di risultato è fondamentale comprendere conoscere bene e saper leggere bene il programma perché ciascuna operazione finanziata nell'ambito del programma deve contribuire a muovere quegli indicatori di output di risultato quindi in qualità di beneficiario devo essere in grado a conoscerli prima quali sono questi indicatori perché poi mi chiedono di muoverli e quindi devo attrezzarmi ovviamente prima l'altro elemento che è utile alla ripartizione delle risorse web del programma per tipologia di intervento quindi c'è diciamo ai fini statistici quali sono i campi di intervento e quante risorse io prevedo a livello di ciascuna tipologia di intervento e quindi c'è la tabella 4 che mi dà con informazione aggiuntiva per comprendere che tipo di azioni di attività di interventi finanzia l'autorità gestione insieme alla commissione europea hanno scelto di finanziare nell'ambito del programma e quindi anche il campo la tabella 4 campo di intervento mi fornisce quel contenuto informativo in più che può aiutarmi a definire evitare di andare fuori tema il campo di intervento mi aiuta a definire esattamente quelli diciamo con più precisione quelli che sono i campi di intervento previsti nell'ambito del programma tenete presente che c'è ci sono oltre 180 62 campi campi in intervento già previsti del regolamento dove l'autorità di gestione nell'ambito del programma ha selezionato quelli più pertinenti rispetto alla finalità del programma stesso il piano di finanziamento quindi il piano finanziato del programma con due tabelle tabella 10 e tabella 11 dove la tabella 10 c'è solo la quota oe e la tabella 11 esprime la dimensione finanziaria del programma stesso e in più l'ultimo elemento che riteniamo essere particolarmente significativo è il paragrafo 4 in particolare la tabella 12 relative alle condizioni abilitanti avere una conoscenza rispetto alla priorità di interesse all'obiettivo specifico di riferimento di questi elementi in qualche modo fornisce quegli elementi essenziali per comprendere qual è la strategia del programma e per evitare di prevedere delle operazioni che non siano strettamente correnti col programma stesso o meglio che l'operazione che verrà messa a finanziamento e quindi finanziata contribuirà in maniera diretta agli obiettivi specifici del programma stesso e a quei risultati che sono previsti quindi diciamo questo vale per qualunque programma ovviamente il programma fs della regione siciliana ma vale per qualunque programma qual è stata la scelta adottata a livello della della regione siciliana è stata la scelta in qualche modo in continuità con la programmazione quattro decimenti dove diciamo i tre driver principali occupazione situazione e formazione inclusione sociale sono diciamo in qualche modo confermati così come l'azione rivolta ai giovani dove nella programmazione quattro decimenti sapete c'è un po' iog o un garanzia giovane dove ciascuna regione è un organismo intermedio dove la scelta strategica della regione siciliana di intervenire sempre con un'azione appunto rivolta ai giovani e poi un'azione un po' più sperimentale come relazioni sociali innovative previste appunto nell'asse 5 poi c'è un altro asse l'asse di assistenza tecnica che è finalizzato appunto a fornire con tutti quei supporti necessari punto di assistenza tecnica all'attuazione del programma stesso rispetto ai giovani volevo tanto evidenziare come anche nella programmazione ventuno ventisette previsto comunque un programma nazionale garanzia giovani e donne ma la scelta della regione siciliana è stata quella di dedicare una priorità apposita su queste diciamo priorità proprio per investire fortemente su quello che è diciamo un ambito di forte diciamo necessità e fa bisogno della della regione quindi col programma ventuno ventisette viene fatta appunto questa scelta di concentrare una parte comunque importante di risorse a rafforzare questa priorità per quanto riguarda appunto e l'occupazione mi soffermerò in questo intervento soprattutto con interventi che costruiscono in qualche modo delle novità rispetto alla programmazione quattro decimenti diciamo mentre è confermato sostanzialmente interventi legati all'occupazione istruzione e formazione l'inclusione sociale lotta proprietà su questi interventi ci sono degli obiettivi specifici che in qualche modo contribuiscono approfondiremo proprio nel dettaglio sia perché costruiscono un po degli elementi innovativi rispetto alla programmazione quattro decimenti sia perché diciamo e dietro possono nascondere dei rischi che in qualche modo non essere presi in considerazione mentre viene messo diciamo in continuità ripeto con la passata programmazione quelli che sono le priorità inclusione occupazione scusate occupazione e istruzione formazione e quant'altro come diceva intervento adesso michele per quanto riguarda i giovani anche qui ci sarà un focus diciamo in continuità con la programmazione quattro decimenti e come elemento fondamentale e sinergico rispetto alle strategie nazionali e in più appunto ci soffermeremo anche brevemente su quelle che sono le azioni sociali innovative dove la dimensione finanziaria della priorità non è particolarmente significativa ma comunque diciamo c'è un cofinanziamento è più alto fino al 95 per cento e quindi vale la pena e poi qualche punto d'attenzione rispetto quindi alla priorità inclusione sociale lotta alla povertà diciamo articolato in due obiettivi specifici l'obiettivo specifico è incentivare l'inclusione gli obiettivi specifici vengono selezionati nell'ambito dei regolamenti e dell'fse plus quindi incentivare l'inclusione attiva per promuovere le varie opportunità la nu discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità in particolare dei gruppi svantaggiati questo obiettivo specifico nell'ambito del programma vengono definite e previste una serie di azioni quindi è un menu che non è esaustivo ma in qualche modo qualora dovessi finanziare un progetto un'operazione questa deve essere coerente col programma e quindi con in qualche modo essere condotta all'obiettivo specifico e all'azione corrispondente quindi interventa deve essere in carico multiprofessionale finalizzata l'inclusione lavorativa sostegno economico anche mediante buoni e voucher per garantire l'accesso al diritto allo studio universitario progetti culturali e sportivi per i minori a rischio di esclusione e soggetti svantaggiati attenzione già pensate ai target di destinatari coinvolti interventi di inclusione attiva per soggetti svantaggiati compresi i cittadini i presi terzi migranti e comunità immaginate tutoraggio e solidarietà alle imprese vittime di racket e usura e attivazione di un fondo per il microcredito quindi già nel individuare l'obiettivo specifico nell'individuare le azioni nell'ambito del programma si riesce a capire esattamente quali sono gli interventi ammissibili nell'ambito di quella priorità nell'ambito di quell'obiettivo specifico in più altro elemento fondamentale è il target di destinatari dove nel caso specifico vengono individuate persone particolarmente esposte a rischio di esclusione sociale e segnatamente le persone con disabilità i soggetti vittime di violenze e abusi i soggetti a rischio di discriminazione e sfruttamento quindi i soggetti tutti vulnerabili soggetti a rischio di esclusione sociale a seguito di scioglimento legale del nucleo familiare e così via poi ovviamente nell'ambito sempre nel della priorità obiettivo specifico rientrano di destinatari retta misura i i profughi e i chiedenti asilo visto la natura dell'intervento ovviamente e le persone vittime di tratta perché in possesso di un valido titolo di soggiorno e minori anche nel caso in cui siano senza un valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale e poi entrano tra i destinatari anche le associazioni di volontariato e le cooperative del terzo settore quindi un combinato risposto tra obiettivo specifico e azioni e target inclusa le tipologie di intervento riesce a definire e a far comprendere bene qual è la scelta strategica nell'ambito del programma stesso e di quella priorità e specifica no qui volevo soltanto enfatizzare adesso vedremo anche in questa prossima slide come eh anche nella programmazione quattordici venti il programma FSE della regione siciliana interveniva sul terzo settore ma il peso finanziario e anche il numero le tipologie di interventi che erano previsti erano molto minori mentre invece proprio la programmazione ventuno ventisette al livello sia nazionale che regionale è fortemente rafforzata su quest'ambito e quindi sicuramente diciamo ci sarà una grossa attenzione e una necessità di accompagnare quelli che sono diciamo i classici interventi finanziati dall'FSE a interventi che sono rivolti diciamo a particolari categorie di destinatari con appunto un allargamento anche delle tipologie di intervento rispetto a quelle diciamo più classiche finanziate ad oggi col fondo sociale europeo quindi semplicemente un'attenzione maggiore a ambiti diciamo diversi eh di eh intervento del del nuovo programma esatto tant'è vero che qui c'è uno spostamento di attenzione rispetto agli obiettivi specifici che se vogliono e vogliono perseguire e conseguentemente anche la natura degli interventi alle tipologie di beneficiari che in qualche modo hanno una natura diversa rispetto a quelli interazionalmente utilizzati che sono conoscono meglio il fondo sociale europeo parlo di fondo sociale europeo verso 14 venti anche delle passate programmazione quindi anche in questo caso ci sono gli elementi che devono essere presi in considerazione e su cui bisogna poi l'attenzione quindi appunto l'obiettivo è quello di soffermarsi su alcune priorità in particolare che appunto costruiscono una novità rispetto al periodo di programmazione quattro decimenti e nascondono anche dei profili di rischio quindi in particolare mi faccio riferimento all'obiettivo specifico undici sempre del fondo del regolamento FSI plus dove è previsto migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità sostenibili a prezzi accessibili compresi servizi che promuovono accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona anche in ambito sanitario modernizzare i sistemi di protezione sociale anche promuovendo l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori ai gruppi svantaggiati migliorare l'accessibilità e l'efficacia della resilienza dei sistemi sanitari e dei sistemi di assistenza di lunga porata anche per le persone con disabilità quindi anche qui vedete la specificità e la declaratoria di questo obiettivo specifico dove ci sono anche 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 quindi definisce quale sia l'obiettivo e anche la modalità attraverso cui si intende per seguire quell'obiettivo anche in questo caso nell'ambito del programma vengono definite delle azioni previste quindi presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie interventi formativi rivolti alla qualificazione di risorse umane delle professioni sanitarie assistenziali migliorare l'accessibilità e l'efficacia della resilienza dei sistemi sanitari quindi tutta la filiera del sistema sanitario sta sotto questo obiettivo specifico interventi di sostegno sociale per i minori con difficoltà e gli adulti in condizione di vulnerabilità socio-economica interventi per rafforzare l'offerta di asili nido progetti iniziative per comunità marginate e per il contrasto dell'appoglianza di genere alla tratta e azioni per il partenità dell'organizzazione della società civile. Anche in questo caso il contenuto informativo del tipo di destinatari e dei target è certamente utile perché fornisce un elenco di soggetti verso cui è rivolta questo obiettivo specifico e quindi le azioni corrispondenti. Un aspetto su cui bisogna poi l'attenzione e in particolare rispetto sempre alla gerarchia della fonte è nell'ambito dell'obiettivo specifico quello che abbiamo letto quindi l'undicesimo del regolamento FSE e il regolamento già prevede che o è strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsueti di cui articolo 20 limitatamente per un po' di 18 mesi il Fondo Sociale Europeo Plus può sostenere il finanziamento dei regimi di riduzione dell'oraio lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive oppure l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socio-economica imminente. Questo cosa comporta? Bisogna leggere il regolamento un pochino al contrario che nella situazione ordinaria in cui non sono circostanze eccezionali attestate e dichiarate dalla Commissione Opera questi due interventi A e B non sono ammissibili quindi va letta in quest'ottica mi sofferma ad esempio al punto B alla lettera B dove misure di accesso all'assistenza sanitaria posso farle solo in regime ordinario solo le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità socio-economica imminente altrimenti non posso farle in misure generalizzate analogamente finanziamenti di regime di riduzione dell'oraio di lavoro non posso farli se non associati a misure di politica attiva quindi vanno letti questo regolamento è particolarmente rilevante sull'obiettivo specifico 11 che è quello che appunto ce l'avete nell'ambito del programma FSE della Regione Siciliana dove questo costruisce un limite perché in questo caso il target il gruppo target devono si trovarsi in situazioni vulnerabilità persone quindi in situazioni vulnerabilità socio-economica imminente e quindi il beneficiario deve assicurarsi che quelle persone che ho preso in carico rispetto all'accesso all'assistenza sanitaria abbiano quei requisiti quindi situazioni di vulnerabilità socio-economica imminente quindi un elemento che va preso in considerazione altro aspetto sempre come novità rispetto alla programmazione 14-20 sono le azioni sociali innovative dove vengono definite per la popolazione adulta misure a sostegno per la costituzione enormi con imprese percorsi di qualificazione professionale creazione di un sistema di qualificazione e quant'altro quindi anche qui vengono definite un set di azioni innovative che vengono espressamente codificate e previste nel programma stesso questo per quanto riguarda che la popolazione adulta nella proprietà lavorativa e per la popolazione non adulta quindi azioni formative di base inserimento nella scuola primaria potenziamento della sinergia la scuola e comunità distraniali e così via anche in questo caso il contenuto informativo sui target di destinatari sono soggetti svantaggiati giovani in condizioni di disagio cittadini di presiderzi e così via quindi diciamo molto sinteticamente per mettere in evidenza le informazioni chiavi che sono chiave che sono presenti nel programma sono codificate rispetto a quella priorità che mi interessa rispetto all'avviso di riferimento quell'obiettivo specifico rispetto a quello io se mi riesco a mi leggo le azioni target e destinatari target a quel punto quel contenuto informativo necessario è sufficiente e obbligatorio che devo tenere conto nell'ambito della progettazione e nell'ambito dell'attuazione dell'intervento quali sono adesso sempre vediamo rispetto a quelli che sono gli elementi essenziali del programma sono andiamo a vedere sempre più nel dettaglio quelle che sono le dotazioni finanziarie dove qui questa è la tabella 10 solo quota UE quindi la quota di finanziamento nazionale escluso ed ha un contenuto informativo abbastanza rilevante come vedete l'annualità 2021 non è codificata perché non è quantificata perché il programma è stato adottato nel 2022 come tutti i programmi ha un piano finanziario fino al 2025 poi dal 2026 al 2027 ha una dotazione finanziaria principale senza importo di flessibilità e l'importo di flessibilità che è il 50 per cento per un totale di quota è di oltre un miliardo di euro la commissione europea dice l'importo di flessibilità del 2027 al 2027 lo accantono e lo svincolo solo nel 2025 a seguito della valutazione dei risultati conseguiti nel 2024 e quali sono questi risultati in quelle tabelle degli indicatori e ciascuna priorità quindi tabella 2 in particolare indicatore di acqua c'è già una quantificazione di target che io mi aspetto di conseguire e se conseguo quei target nel 2024 quindi dopo domani nel 2025 la commissione europea svincolerà queste risorse per dare complessivamente faccio la somma 80 più 78 158 milioni di euro di quota che si aggiungono si svincolano solo a partire dal 2026 quindi solo in esito alla valutazione dei metà periodi sulla base di risultati che che deve aver conseguito nel 2024 quindi questo è molto importante per comprendere e questa informazione su la disponibilità delle risorse che non ce l'ho tutte tutto il miliardo di euro a cui associo la quota nazionale ma ce l'ho solo una parte l'altra parte svincolata in funzione all'aggiungimento dei risultati intermedi un elemento forse interessante scusa se ti interrompo lorenzo sulla flessibilità è semplicemente dire che a differenza di altre programmazioni in questa programmazione non è più prevista una valutazione ex ante ma è previsto appunto questo momento di verifica intermedia dove come correttamente ha detto lorenzo si andrà a verificare il conseguimento dei target e laddove ci fossero diciamo delle inefficienze nell'attuazione del programma lo svincolo di queste risorse è condizionato a un eventuale riprogrammazione riallineamento il programma a quelle che sono le esigenze del contesto quindi in qualche modo una programmazione settennale in questo caso 21 27 si diciamo suddivide in due parti la cui seconda parte è svincolata in funzione di una verifica o del corretto raggiungimento dei risultati raggiunti ma anche del corretto diciamo rispondenza del programma a quelli che sono i fabbisogni aggiornati del territorio quindi diciamo due elementi che vengono presi in in considerazione si aggiungo nel senso anche da questa slide della bella appunto 10 è che le risorse di flessibilità si svincolerebbero nel 2026 anche qui il termine di ammissibilità delle spese al 31 dicembre del 2029 quindi avrò diciamo la coda della programmazione per poter utilizzare queste risorse insieme a tutte le altre risorse del programma quindi anche qui c'è una programmazione divisa in due su cui bisogna un conto a livello di programmazione questo incide a livello di singolo progetto perché ciascun singolo progetto deve contribuire al raggiungimento di quei target intermedie del 2024 che determino il raggiungimento il mancato raggiungimento appunto di quel target fissato nel programma stesso la tabella successiva la tabella 10 è quella diciamo più significativa perché è quella che determina l'editazione finanziaria dove insieme alla quota UE il 1.060 miliardi di euro scusate 1 miliardo e 60 milioni di euro viene associata alla quota nazionale perché i programmi sono cofinanziati e e complessivamente vedete il programma vale un miliardo e mezzo vale quasi il doppio rispetto alla programmazione 14 20 quindi c'è un ingente dimensione finanziaria rispetto al programma stesso in più come vedete il tasso di cofinanziamento la per l'ultima colonna il tasso di cofinanziamento degli assi da 1 a 4 al 70 per cento mentre le azioni sociali innovative come vedete è principalmente viene messa la quota UE quindi la commissione europea un partecipa in maniera significativa rispetto all'attuazione di quella di quella di quella priorità stessa come vedete anche qui la dotazione finanziaria come la dotazione finanziaria il peso occupazione istituzione e inclusione sociale giovani come vedete in ordine insomma sono abbastanza significativi rispetto alle opportunità di finanziamento rispetto a diversi settori fondamentale come abbiamo detto sono quegli indicatori dove ciascun progetto sotto la responsabilità ciascun beneficiario deve contribuire a muovere quegli indicatori nell'ambito del regolamento HSE plus ci sono appunto degli indicatori specifici quindi c'è un set un elenco in più ciascun programma può avere e ha definito degli indicatori specifici dei programmi la scelta è stata fatta quindi ad oggi esistono già degli indicatori quindi basta consultare il programma per individuare quali sono quegli indicatori di output e quegli indicatori di risultato a titolo esemplificativo ad esempio su obiettivo specifico 4.1 migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro in particolare giovani eccetera in quest'ambito vengono definiti degli indicatori di output dove sono persone non occupate che sono persone prese in carico dove vedete già un target intermedio al 2024 830 unità e un target finale a di 9.920 unità quindi già nel programma vengono quantificate le persone che devono essere prese in carico nell'ambito di quell'obiettivo specifico e di quella priorità quindi che cosa succede uno devo raggiungere al 2024 per quell'importo di flessibilità che dicevamo prima l'altro elemento devo raggiungere al 2029 per quel target quindi già fissato per assicurare che il programma in qualche modo contribuisca effettivamente al raggiungimento di quei risultati già condivisi nel 2022 dalla commissione e quindi questi elementi è fondamentale perché cosa succede se manca uno di questi due target al 2024 l'importo di flessibilità è subordinato a una riprogrammazione del programma se non arriva a 830 se arriva a 800 sto lì quindi la riprogrammazione sarà limitata se invece al 2024 sto a zero è evidente che ho tutti i motivi perché quella priorità e quelle azioni che ho previste probabilmente non producono effetti e quindi con importo di flessibilità potrebbe essere destinata ad altro o riprogrammato in altro verso se non dovessi raggiungere il target al 2029 ovviamente vuol dire che il programma non ha raggiunto i propri effetti questo per quanto riguarda gli indicatori di output analogamente contano di più al 2029 sono gli indicatori di risultato che sono le tabelle 3 di ciascuna priorità partecipanti che hanno un lavoro dopo sei mesi e dopo dopo la fine della loro partecipazione all'intervento quindi questo vuol dire che a livello di beneficiaio a livello di autorità di gestione deve attrezzarmi perché ci sia un monitoraggio a distanza anche di sei mesi rispetto alla realizzazione dell'intervento e quindi questo anche questo è un elemento che deve essere preso in considerazione da tutte le parti insomma sia a livello di singoli beneficiari di singole operazioni sia a livello di di autorità di gestione l'elemento chiave perché l'autorità di gestione possa dimostrare alla commissione europea di aver aggiunto questi target e che questi dati corretti quindi siano corretti e documentabili e siano presenti in un sistema informativo abbiamo altri esempi rispetto a questo dice poco cambia il principio è sempre lo stesso indicatore cambia la priorità o meglio la priorità la stessa cambia obiettivo specifico cambiano gli indicatori e quindi nel 2024 indicatori di output nel 2029 indicatori di output dei risultati altro elemento e chiudo e che può essere certamente utile è che l'autorità di gestione deve in qualche modo garantire nella selezione delle operazioni che le operazioni siano correnti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti vale a dire che le condizioni abilitanti che si trovano nella tabella e 14 del programma vengono definite delle strategie per soddisfare quelle condizioni io nell'ambito della mia operazione che contribuisce a quell'obiettivo specifico deve assicurarmi che l'operazione stessa sia coerente con la strategia prevista in questa tabella che è già codificata e quindi devo fare attenzione io beneficiario perché sarà oggetto di controllo da parte dell'autorità di gestione ma anche da parte dell'autorità di audit che l'operazione stessa sia in qualche modo strettamente correlata alle strategie previste dalla condizione abilitante quindi anche qui attenzione alla lettura completa della del programma con quest'ultimo elemento che non può essere sottovalutato non so se michele vuole integrare e no diciamo che vi ringraziamo e enfatizzerei soltanto diciamo l'attenzione già richiamata da lorenzo sul concetto degli indicatori e col sul conseguimento dei target degli indicatori perché su questo che si gioca la nuova programmazione è ancor di più diciamo la possibilità di avere rimborsi completi da parte della commissione europea sono funzionalmente condizionati al raggiungimento di quei risultati di output e risultato previsti dal programma quindi gli interventi devono necessariamente essere correlati e contribuire a raggiungere i valori indicati dal dal programma stesso va bene grazie a tutti arrivederci arrivederci